E rieccoci qua cari amici bentornati in questa nuovissima puntata del Mike and Beer. Anche questo venerdì argomento diciamo novità potremmo dire così, ma prima di iniziare vi voglio dirvi che l'80% di voi che guardate il podcast che ci seguite non siete iscritti al nostro canale YouTube. E se non vi dispiace noi vi chiediamo gentilmente di iscrivervi qua sotto al nostro canale così da darci supporto, da aiutarci veramente tantissimo e lasciateci anche un bel mi piace. Così ci potete dare una grossissima mano e il tutto è gratuito. Quindi se non l'hai ancora fatto mi raccomando iscriviti al nostro canale. Iniziamo a parlare con l'argomento di oggi o meglio ve lo voglio accennare poi ci sarà come di consueto la sigla e poi entriamo e svisceriamo questo argomento. Ormai esistono veramente tantissimi tipi di birra, tantissimi tipi di gusti di birra no? Quella più amara, quella un po' meno amara, quella più fruttata, quella un po' più maltata possiamo dire così. Insomma veramente una birra per ogni palato. E se vi dicessi che da poco tempo, da circa un paio di mesetti, si può addirittura avere la propria birra personale che probabilmente ci piacerà al 100% grazie al DNA. Voi cosa ne pensate? Sigla e parliamone più approfonditamente. Come dicevo poco fa appunto ormai ci sono talmente tanti tipi di birra che praticamente potremmo avere la nostra birra personale a livello commerciale che appunto ci piace di più in assoluto. Una birra adatta a ogni singola persona che conosciamo. Beh sappiate che oggi potrete avere la vostra birra, è anche quasi difficile da dire, potrete avere la vostra birra personalizzata in base al vostro DNA. Potreste averla ma non è da tutti perché ovviamente il costo è molto elevato. Ovviamente ci arriviamo. Ci troviamo a Londra dove un birrificio, o meglio il Man Time Brewery con il suo proprietario che è Sharon Ghiblin, spero di averlo pronunciato correttamente, ha avuto questa brillante idea di creare appunto le birre personalizzate con il proprio DNA, o meglio viene creata la birra di questo birrificio appositamente per te che fai richiesta con il tuo DNA. Tu non devi fare altro che mandare un campione di saliva appunto al birrificio, loro provvederanno insieme a un'azienda partner a esaminare il tuo codice genetico, il tuo DNA tramite la saliva e dopodiché verrà creata la birra. E come fanno? Utilizzano un gene che è presente ovviamente in ognuno di noi, il TASR2R38, questo particolare gene che ha la specificità del piacere o meno, del riconoscere in modo più o meno diverso in ognuno di noi il salato e il dolce. Ed è in generale comunque molto importante per la percezione dei sapori, dei sapori che noi appunto sentiamo quando andiamo a bere una birra, quando andiamo a mangiare qualcosa, quando andiamo a introdurre qualsiasi cosa all'interno della nostra bocca. Questo recettore che è appunto, anzi questo gene meglio, più correttamente, viene elaborato e il birrificio si occuperà di creare la vostra birra. Questa birra fatta apposta secondo il vostro DNA, secondo quelli che poi dovrebbero essere i vostri gusti scientificamente provati e approvati, dovrebbe creare la vostra birra. Riceverete però non una birra ovviamente, una bottiglia di birra da 33 o da 66, ma ben 12 ettolitri di questa birra. Ovviamente è una produzione intera, 12 ettolitri per chi, se lo chiedese, per chi non è magari ferratissimo, sono 1200 litri di birra che vi portate a casa, oppure che potete vendere ai pub che appunto possiede questo birrificio, dargli un nome, creare anche addirittura un po' l'etichetta con l'azienda che vi aiuterà e vendere la vostra birra, quella che è appunto, quella che dovrebbe essere la vostra birra preferita, la birra creata col vostro DNA. Il prezzo di tutto questo si aggira intorno alle 25.000 sterline, che dovrebbero essere più o meno 26.000 euro, quindi come dicevo non è un prezzo adatto a tutti, ma è sicuramente qualcosa di interessante. Pensate appunto di avere 1200 litri della vostra birra che sicuramente vi piacerà da portarvi a casa o addirittura da vendere, quindi anche un piccolo investimento possiamo dire. Tra l'altro una volta che viene prodotta, prima di sganciare la grana, potremmo dire così, il birrificio vi fa assaggiare giustamente la birra che ha prodotto. E nel caso in cui non sia di vostro gradimento, beh, se la terranno loro e probabilmente la venderanno. Questo non è precisato, ma penso proprio che sia così, perché sennò perderebbero in generale un sacco di soldi. Voi cosa ne pensate? Nel caso aveste 26.000 euro da buttare, tra virgolette, comunque da utilizzare, anche da investire, tra virgolette, creereste questa vostra birra con il vostro test del DNA. Non pensate che sia più semplice assaggiarne tante e trovarne una che vi piace veramente tanto, da farvi un po' di scorte ogni tanto, da tenere in casa, da bere per ogni occasione, e poi ovviamente ogni tanto con altre birre sperimentare un po' i gusti, o comunque dedicarsi anche ad altri gusti, perché è giusto così. Io personalmente penso che 26.000 euro, forse per una cosa del genere, non li utilizzerei mai. O ne ho veramente, tra virgolette, da buttare via, o comunque da investirne in una mia attività. Diciamo, se ho un mio bar, potrebbe essere una mia birreria, che magari non produco birra all'interno di essa, ma sono un bar, un pub, così, e ho magari dei clienti affezionati, potrebbe essere, diciamo, una sorta di investimento. Puoi dire ai tuoi clienti, guarda, ti ho fatto questa birra col mio DNA, dovrebbe essere la birra che preferisco così, assaggiatela, è un po' di, diciamo, di marketing, no? Potremmo vederla in questo modo. Se no, se è prettamente da bere in casa propria, insomma, 26.000 euro non sono pochi. Non so se c'è la possibilità, magari, di pagare con un finanziamento a rate. Magari hanno dato anche questa possibilità. E chi ha veramente una passione smoderata per la birra, potrebbe farci un pensiero, potrebbe acquistarla. Beh, io penso che forse non ne valga la pena. Dato che in commercio, se studiamo un po', se assaggiamo tante birre, se siamo curiosi, abbiamo voglia di sperimentare, sicuramente la birra adatta a noi la troviamo, senza ombra di dubbio. Fatemi sapere ancora una volta cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io vi ricordo di iscrivervi, vi ricordo che l'80% di voi che ci guardate non è iscritta, quindi mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, che ci dai una grossa mano. A noi fa veramente piacere e non costa nulla. Io vi ricordo che in descrizione trovate anche il link a farabir.com, il mio blog di birra, dove ogni settimana ci sono tanti articoli dedicati a questa bevanda. E noi ci risentiamo venerdì prossimo con una nuova puntata del Mike & Beer. Ciao a tutti!